1.334 sono i cinghiali abbattuti da inizio anno in Lombardia. 528 i capi uccisi con i piani di controllo messi in atto dalle polizie provinciali, mentre 806 sono stati eliminati attraverso la caccia di selezione introdotta la regione Lombardia. In provincia di Sondrio è da tempo attivo un piano di contenimento del cinghiale sul quale diede parere favorevole Ispra, istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In Valtinia e Valchiavenna quest'anno sono stati impiegati solo operatori qualificati, quindi cacciatori che hanno frequentato corsi di formazione specifici. 237 i cinghiali abbattuti con questa modalità dal 1 gennaio al 23 luglio. In provincia di Lecco, nello stesso arco di tempo, sono stati uccisi 98 esemplari, 96 dei quali con la caccia di selezione, quindi nel corso della stagione venatoria. Continueremo a difendere i prodotti dei nostri campi da una specie invasiva che sta generando danni enormi e che rappresenta un pericolo per la sicurezza, afferma Fabio Rolfi, assessore regionale agricoltura. La regione sta facendo di tutto per arginare il fenomeno. Abbiamo fatto la zonizzazione del territorio, delle aree vocate e non vocate alla presenza del cinghiale e abbiamo dato la possibilità agli agricoltori autorizzati, che subiscono danni, di abbattere tutto l'anno questi animali. I piani di contenimento sono stati messi in pratica dalle polizie provinciali, ormai ridotte all'osso dalla legge del Rio, commenta Rolfi. Per questo abbiamo deciso di introdurre nelle province più problematiche la caccia di selezione che sta fornendo risultati ottimi, soprattutto a Lecco, Como e Varese. Linea dura che è stata varata nella nostra regione alla luce di quanto è accaduto negli ultimi cinque anni. I cinghiali hanno causato 384 incidenti stradali e danni alle colture agricole per 1.700.000 euro. Animali che negli anni 90 sono stati introdotti forzosamente anche in provincia di Sondrio. Immissioni illegali cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.